I concerti di Vasco Rossi a Palermo stanno generando grande attese ed entusiasmo tra i fan della provincia di Caltanissetta che si preparano a raggiungere lo stadio Renzo Barbera per assistere agli spettacoli previsti il 22 e il 23 giugno. Questo evento è considerato il più importante dell'estate siciliana e se ne parla da quasi un anno. Numerosi pullman partiranno dalle province di Caltanissetta per portare gli appassionati di Vasco nel capoluogo siciliano dove è stato istituito un imponente servizio di sicurezza con precise regole riguardanti la viabilità, i divieti e le modalità di accesso ai diversi settori dello stadio. A due giorni dal primo concerto di Vasco a Palermo fissato per domani sera al Barbera la Questura ha fornito alcune indicazioni generali per tutti coloro che si recheranno allo stadio per assistere all'evento. Vi è il divieto assoluto di introdurre all'interno dell'impianto sportivo valigie, trolle, bombolette e spray di qualsiasi genere, trombette da stadio, armi giocattoli munite di tappo rosso, materiale esplosivo, artifici protecnici, fumogeni, bastoni per selfie e treppiedi, aste e ombrelli muniti di punta, strumenti musicali, penne e appuntatori laser, droni, aeroplani telecomandati, biciclette, skateboard, pattini, overboard e caschi, tende, sacchiappelo, spray anti-aggressione e tutti gli altri oggetti atti ad offendere. Per agevolare l'afflusso delle auto il percorso consigliato prevede di seguire via le regioni siciliane in direzione Trapani, prendere lo svincolo per via Le Lazio, continuare sul via Le Lazio, via Le Campania, via Bricata Verona, piazza Vittorio Veneto, via dell'Artigliere, piazza Leoni, via Lediana, via della Favorita e infine via Imperatore Federico fino al numero 13 all'interno della fiera. Per i pullman provenienti da Trapani si suggerisce di raggiungere il parcheggio di piazzale Francia seguendo l'autostrada 29 in direzione Palermo, prendendo lo svincolo per la zona industriale nord e raggiungere piazzale Ambrosini. Si precisa che al termine del concerto l'imbarco sui pullman avverrà nello stesso punto di sbarco. Per coloro che raggiungeranno Palermo in auto private è possibile utilizzare i parcheggi pubblici di piazzale Giotto Lennon e successivamente raggiungere lo stadio utilizzando le linee urbane del trasporto pubblico. In particolare dal piazzale Giotto Lennon è in servizio la linea Amat numero 544 dalle 18 alle 21 con intervalli di 20 minuti che ha come destinazione via Belgio. In alternativa è possibile raggiungere lo stadio Renzo Barbera attraverso percorsi pedonali con un tempo di percorrenza medio di circa 30 minuti. Al termine del concerto la linea Amat N3 dalle 23 alle 3 con intervalli di 20 minuti con destinazione piazzale Giotto Lennon garantirà il ritorno al parcheggio. Grazie. Grazie. Grazie.